Altri due derby e che derby nella undicesima giornata di Serie D. Nel turno che completa una settimana fitta di impegni il Clou sarà certamente allo stadio dei Marsi di Avezzano dove i bianco-verdi di Giampaolo, dopo sei risultati utili consecutivi di cui quattro vittorie, ricevono l'Aquila di Battistini. Formazioni che arrivano da un pari a testa contro Francavilla e Campobasso, confronto tra due realtà tra cui c'è grande rivalità calcistica. Peraltro in casa Rosso-Blu c'è anche ottimismo per la questione societaria che sembra andare verso una positiva risoluzione. Si attende il pubblico delle grandi occasioni, 300 italiani disponibili per la tifoseria ospite. Una partita importante su due fronti, sia per la classifica che per il prestigio della città. Noi ne siamo consapevoli e la prepareremo al meglio come abbiamo fatto fin qui. Volevo elogiare il nostro gruppo, soprattutto chi sta giocando meno e chi subentra sempre. Ci sta dando quella spinta in più per poter arrivare sempre più in alto. L'altro confronto tra formazioni abruzzesi, quello del Mariani Pavone di Pineto, dove i bianco-azzurri se la vedranno proprio col Francavilla di Pierluigi Iervese. La squadra di Emaolo ha approfittato dei pareggi di mercoledì per passare sul lato sinistro della classifica, grazie alla vittoria esterna sul Nero Stellati. I giallorossi sono in forma super, nove reti negli ultimi quattro turni, un Cosmo Palumbo, cecchino davvero infallibile. Noi sicuramente proveremo a fare punti dappertutto, ci prepariamo per la prossima trasferta. All'inizio abbiamo trovato qualche problemino, soprattutto in casa, fortunatamente in Coppa poi ci siamo sbloccati e adesso abbiamo trovato la continuità giusta. La Vastese, terza in classifica, riceve all'Aragona l'Olimpia Lignonese e ritrova Pino Di Meo, grande ex del match di domani pomeriggio. La formazione di Colavitto può ricominciare il ciclo di vittorie consecutive, interrotto dal pareggio di mercoledì di Monte San Giusto, che tuttavia ha mostrato la caratura di una squadra che può lottare per il vertice fino alla fine del torneo. Ha recanato invece l'ultima spiaggia, probabilmente per Luca Campanile, che deve riportare la San Nicolò quantomeno ad un risultato positivo per sperare di proseguire la sua avventura sulla panchina di una squadra che ha raccolto pochissimo, un punto nelle ultime sei gare. I leopardiani si sono fatti rimontare dal Castelfidardo nel finale del turno di mercoledì, mentre il San Nicolò è uscito sconfitto di misura dal confronto con la Vispesaro. Proprio qui pesaresi se la dovrà vedere il Nero Stellati, fanalino di coda della classifica, nella necessità di raccogliere qualche punto in attesa di un mercato in grado di rinforzare pesantemente la compagine pratolana.